Massimo Iaciancio, team manager dell'Isernia, esordio in campionato in casa, per voi è arrivata questa beffa nel finale, come parlava anche il presidente Giannini, difficoltà a giocare su questo campo? Sì, abbiamo avuto delle difficoltà oggettive dovute sia a una giornata calda, ma vale anche per l'avversario, e sia su un campo un po' disconnesso perché soltanto in settimana è stato messo a disposizione della squadra e soprattutto abbiamo avuto modo di poterci entrare e allenarci per la prima volta. Un buon avvio in Coppa, è stata questa battuta dal resto, ma si è avviato anche bene il campionato, era difficile comunque rivedere l'Isernia vista col sesto campano, per le condizioni del campo un segnale positivo che si torna subito in campo? Sì, assolutamente sì, noi abbiamo soltanto che da migliorarci domenica su domenica, vogliamo lavorare, lavorare e lavorare, e avere la possibilità di poterci esprimere per quelli che sono i nostri requisiti tecnici, grazie anche al mister, che comunque ha un modo di giocare sicuramente palla a terra, quindi il campo, insomma, per le partite che faremo in casa, se lo abbiamo nei miglior dei modi potremo dare il valore aggiunto per quello che è l'Isernia Calcio.